Che poi se ci pensiamo ragazzi, la nascita della logica è fondamentalmente collegato al tema della nascita della teologia razionale. Perché? E questo è molto interessante tra l'altro. Perché? Perché in fin dei conti probabilmente la teologia razionale anticipa la logica. Se ci pensate, la logica da un punto di vista prettamente filosofico nasce nel V secolo, IV secolo a.C., specificatamente nel IV secolo a.C. da un punto di vista formalizzato. Aristotele nell'organo sviluppa delle fondamentalmente regole di stampo logico formale che poi, per esempio, indirizza all'interno dei silogismi. Nell'organo ci sono tanto i silogismi, che sono appunto argomenti con due premesse e una conclusione, termine maggiore, termine minore, termine medio, premessa maggiore, premessa minore e conclusione, tale per cui questi silogismi si sviluppano su una base di stampo formale. È chiaro che ci sono anche le cosiddette fallace logiche. Nel momento in cui, per esempio, il termine medio non compaia tanto nella premessa maggiore quanto nella premessa minore, il silogismo non sussiste, cioè da questo punto di vista è invalido e pertanto formalmente non è valido e pertanto si definisce invalido, cioè ci sono appunto le cosiddette regole formali, tali per cui da questo punto di vista io posso dire attraverso il vero ciò che è valido oppure no. Però attenzione, com'è che io posso utilizzare delle regole formali per parlare a proposito del mondo? Probabilmente attraverso il tema attenzione del principio, cioè laddove c'è un principio noi possiamo cercare di capire anche ciò che è in divenire ma anche ciò che non è in divenire. Il rapporto anche in fin dei conti a ciò che esiste e a ciò, pertanto, rispetto probabilmente a ciò che esiste, che è stato generato e a ciò che è stato ingenerato. Le regole della logica sono regole formali che in fin dei conti si rifanno probabilmente a un sviluppo di stampo relegato al mondo fattuale, al mondo pratico, che attenzione non sono disconnesse dalla metafisica. C'è un collegamento che noi possiamo fare, probabilmente perché attraverso il mondo finito, quello che Aristotele chiamerebbe appunto mondo terrestre, e attraverso un apparato di stampo logico, noi possiamo verificare, pertanto, se un'affermazione è valida oppure no, partendo anche da enunciati che possono essere veri oppure no, ma l'indice di verità è sostanzialmente collegato anche all'indice appunto del caso, cioè del fatto che una cosa avvenga oppure no, ma nel momento in cui qualcosa avviene oppure no, noi già siamo in divenire, siamo già in rapporto di potenza e atto, nel momento in cui per esempio noi diciamo sta piovendo, non sta piovendo, nel momento in cui ciò accade, questa regola è una regola che concerne un enunciato che può essere vero o falso, però il tema è sempre del divenire, probabilmente inteso come ciò che sta accadendo è già in divenire, ma nel momento in cui, attenzione, mi manca il principio cardine, tale per cui viene meno un senso universale, è chiaro che non solo viene meno il senso etico-morale, cioè un senso che è sviluppato da questo punto di vista platonico, tale per cui noi riusciamo a indirizzarci attraverso un'etica di stampo oggettivo, tale per cui per esempio l'anima platonica si reincarna e tutti verranno giudicati. Aristotele parlerà propriamente del primo motore immobile, tale per cui pertanto l'etica concerne solo il mondo finito, perché concerne quel mondo dell'imperfezione, il primo motore immobile è sommo bene, in tal senso, è pensiero di pensiero, è atto puro, non ha bisogno dell'etica. Ma, appunto, queste regole che concerneranno appunto la logica, concerneranno anche la fisica, cioè nel momento in cui noi facciamo un ragionamento logico, noi possiamo farlo e lo facciamo in fin dei conti su una struttura di stampo fisico, tale per cui da questo punto di vista la fisica ci concerne, cioè è ciò che riguarda la filosofia seconda, per Aristotele la fisica è la filosofia seconda, ma se non ci fosse la metafisica che appunto concerne poi il passaggio verso la fisica. Noi non potremmo mai capire ciò che ci sta attorno, ma non già perché non ci viviamo, ma per il semplice fatto, secondo Aristotele, che non ci sarebbe il primo motore immobile a dare il movimento al resto. Pertanto il divenire esiste e la logica si fa anche sulla base del divenire, probabilmente perché se non ci fosse ciò che dà il moto non sarebbe nemmeno possibile a sviluppare un approccio di stampo logico attraverso cui parlare delle cose. Ecco perché in tal senso a un certo punto anche un certo tipo di teologia razionale è stata riletta dai medievali come modalità di scoperta di Dio attraverso pertanto gli studi di Platone ma anche di Aristotele. Lo stesso Sant'Ommaso, ma in tal senso anche la scuola di Salamanca, parleranno, come appunto Francisco de Vittoria, parleranno di un indirizzamento, di un rapporto di stampo fisico metafisico tale per cui c'è un indirizzamento, cioè degli indici sostanziali che attraverso dei segni del mondo sensibile, che ci sono nel mondo sensibile, questi ci rimandano a Dio. E questo concerne anche l'apparato di stampo etico, cioè il segno non solo ci dà un certo tipo di indicazione rispetto a una possibile legge che noi non creiamo ma che troviamo e che è già lì. E pertanto attenzione questa legge è lì perché c'è un principio cardine che fa sì che esista questa legge, pertanto c'è una legge che fa sì che quella cosa sia. Se dobbiamo tornare all'interno e sviluppare questo tipo di strutturazione causa-effetto, 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 c'è per forza un ingenerato, cioè appunto un atto, perché non c'è pertanto più quella potenza-atto, 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 c'è per forza un atto che è già in atto. Ma d'altro canto però questo concerne propriamente anche poi l'indice di stampo etico, cioè l'indice di stampo etico concerne propriamente il tema dell'etica che viene sviluppata attraverso un approccio che concerne poi il movimento della potenza e dell'atto. Capite che è un po' diverso dall'assetto di stampo, diciamo se vogliamo così dire pagano, ufficiale, dove ogni divinità è indiviniera in sé per sé, non eterna e immortale e ogni verità è monopolizzata dalla divinità, dalle divinità olimpiche per esempio, perché in questo tipo di approccio noi non possiamo sviluppare, primo, una logica oggettiva che vale sempre. Noi non possiamo dire, no, ora piove perché ci sono appunto delle cause specifiche e queste cause poi se riusciamo a intravederle, a svilupparle, sono oggettive e queste valgono perché valgono, sono così, punto. Non è che c'è Poseidone che fa scoppiare la pioggia o nel momento in cui noi individiamo le cause ma Poseidone un po' come gli gira poi le muta. No, queste cause sono così, punto. Cioè queste cause sono fondamentalmente di stampo scientifico sostanziale, non c'è qualcosa che appunto le cambia sulla base appunto del suo interesse particolare. Tutto al più, perché dico questo? Perché le divinità olimpiche le cambiano sulla base anche dei loro interessi particolari, sulla base degli scontri che hanno. Cioè il mondo prima di tutto è relegato a un senso di divenire che non ha un principio e se non ha un principio non ha delle leggi che sono in armonia tra loro. Secondo punto, le divinità olimpiche si mettono in gioco per a volte mutare le leggi della fisica e della logica essa stessa. Pertanto è difficile cercare di intravedere un senso di teologia razionale che sia in armonia con il senso di Dio, che però, attenzione, non può che essere in tal senso un principio cardine. Ed ecco perché già i filosofi naturalisti se ne erano resi conto quando svilupparono il tema del principio, come per esempio talete, eccetera, che, attenzione, non ha un inizio né una fine, si potrebbe dire inteso come quel divino che magari genera quel principio, come appunto i filosofi naturalisti sviluppano, ma che quel Dio è già principio in sé e per sé e quindi non può avere né un inizio né una fine. Perché se ce l'avesse, da questo punto di vista, noi non potremmo cercare di creare un certo, o meglio, auspicare in noi stessi un certo tipo di teologia razionale, perché in fin dei conti non ci sarebbe un certo tipo di ordine per capire questa teologia razionale. Pertanto è chiaro che a un certo punto poi i filosofi medievali utilizzano la stessa teologia razionale per cercare di comparare i segni, perché i segni poi a un certo punto non possono che essere tra loro razionali, cioè nel momento in cui questi segni anche sono diversi, tuttavia questi segni tendono a una legge che è comunque sia relegata all'ente sommo, all'ente uguale, all'ente eterno, a quel pensiero di pensiero che appunto propone questa legge. Questo non per dire che il mondo è più semplice, a questo dire che il mondo è complesso, però al contempo queste leggi non sono tra loro in contraddizione, come si poteva pensare il senso dell'antica Grecia ufficiale, dove le divinità tra loro modificavano anche le leggi e contraddicevano queste leggi sulla base dei loro interessi particolari. E tutt'al più, pertanto, la scienza non è un qualcosa di cui avere paura, ma è un qualcosa che può avvicinare questo senso anche a Dio, perché in fin dei conti senza Dio non ci sarebbe la scienza, cioè mancherebbe un tentativo di scoperta delle leggi, probabilmente perché mancherebbe il principio. È un po' quello che già avevano detto i filosofi naturalisti, come faccio io a trovare delle leggi se non cerco di capire quali possono essere i segni che partono dal principio. Ecco, pertanto, anche il senso di armonia che si sviluppa probabilmente dal tema delle leggi che poi si sviluppano e noi vediamo all'interno del mondo. È per questo che Aristotele sviluppa la logica. È formale, certo che lo è, però si basa naturalmente su una sostanzialità del mondo fisico pratico e della filosofia seconda, che non potrebbe esserci senza il primo motoro immobile, che è ingenerato ed è eterno e, in fin dei conti, non può che essere anche fuori dallo spazio, fuori dal tempo e crea questo, cioè crea il tempo che è lo spazio, anche perché è atto puro. Senza la metafisica, senza questo tipo di concezione, non ci potrebbe essere riletta da questo tipo di interpretazione incentivo alla scienza in tal senso.